ciao a tutte eccomi qui a presentarvi un nuovo progetto praticamente ho eseguito questa borsa con delle variante di colori più che colori ho creato delle sfumature praticamente dove ho fatto la piastrella rosa ho fatto tutte le sfumature del rosa il verde le sfumature del verde il viola del viola e l'azzurro dell'azzurro ho iniziato con il filo bianco col colore bianco e ho terminato col colore bianco questi sono i particolari come vi ho detto le varia le sfumature di questi colori e del bianco rosa rosa e fucsia molto più scuro e poi gli ultimi giri con il bianco rifiniti con il bianco per far risaltare di più il colore bianco visto la stagione che si avvicina primavera estate se poi è invernale faccio il fondo con i colori scuri comunque tutto questo è al nostro gusto le misure della piastrella sono finita 10 centimetri quindi il totale e 30 in altezza 20 poi facendo i perimetrali intorno ancora 23 giri sono arrivata a misura finita fatto tre giri di perimetrali 23 per 32 123 123 e 3 ultimi giri comunque questo qui lo vediamo adesso mentre eseguiamo la piastrella come dico sempre per unire si può unire con l'ago oppure con l'uncinetto e questo lo facciamo sempre insieme con l'uncinetto mi sembra di aver detto tutto i manici si possono mettere di bambù che sarebbe il legno e prende la sua caratteristica con il bambù qui la cliente li ha voluti così infatti materiale me l'ha dato la cliente e gli ho messo questi manici il laterale una sola piastrella il sotto una sola piastrella ho messo una base rigida e chiodini di lato sempre una piastrella una di larghezza e 2 in altezza e la borsa e semi rigida quindi io l'ho lavorata con il filato questo filato qui che si chiama spaghetto molto sottile che lavoro col 22 e mezzo massimo due e mezzo con col due l'ho lavorato col due per farlo venire ancora più più rigido così non ho da mettere niente poi dentro l'ho foderata con del cotone vediamo scusate le buste che metto dentro con il cotone se la voglio semi rigida a volte metto o il neoprene oppure il feltro detto questo mi sembra poi di aver detto tutto la cerniera per chiudere questo l'abbiamo già visto in altri tutorial come abbiamo eseguito per cucire la cerniera ultima cosa per mettere i moschettoni ho creato dei passanti che possa eseguire o con il filo oppure in questo caso ho messo la fettuccia di gros messo del gros l'ho cucito a mano e ho lasciato rinforzato se non lo possiamo fare anche con l'uncinetto e questo l'abbiamo visto anche in altri tutorial ok passiamo subito a vedere come si fa la piastrella allora vediamo come si esegue questa piastrella cominciamo con il colore bianco e tutte le piastrelle cominciano sempre con il colore bianco questo è anche il particolare che ogni tanto mi dimentico di dire alcune cose poi me le chiedete e vi rispondo allora partiamo con il cotone bianco cerchio magico cerchio magico giriamo due volte prendo la catenella e faccio 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 e 3 con le due catenelle iniziale 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 catenelle 2 catenelle 2 catenelle 3 catenelle 2 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 catenelle 3 catenelle 2 catenelle 2 catenelle 2 catenelle 3 catenelle 2 caten quindi abbiamo creato due catenelle abbiamo creato quattro gruppi da 3 maglie alte separate da 2 catenelle tiro il cerchio magico chiudo questo filo me lo porto dietro chiudo a maglia bassissima sulle prime 2 catenelle chiudo una maglia bassissima e taglio il filo ogni giro cambio colore e quindi taglio il filo porto nella catenella dietro in questo modo e lo nascondo così per un po poi cambiamo colore i fili li taglio dopo prendiamo il verde vado nel centro tra le 3 catenelle le 3 maglie alte separate dalle 2 catenelle e faccio una catenella è una catenella quindi sarebbero 2 catenelle sempre in questo spazio di 2 catenelle faccio 3 maglie alte 2 maglie alte compreso le 2 catenelle iniziali sono 32 catenelle e di nuovo 3 maglie alte sempre nello stesso spazio 1 2 e 3 2 catenelle 2 catenelle di nuovo 3 maglie alte separate da 2 catenelle e 3 maglie alte in questo modo creiamo sempre il nostro quadrato piastrella quadrato 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte nel terzo spazio di 2 catenelle 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 catenelle 3 maglie alte nell'ultimo spazio 3 maglie alte separate sempre 2 catenelle 3 maglie alte 1 2 e 3 io quando sto per finire per andarmi a unire faccio una catenella non 2 1 perché andandomi andando a unire qui sopra tiro fuori maglia bassissima diventa già un'altra catenella se non lo spazio mi si allarga viene diverso una maglia bassissima taglio il filo e lo faccio passare sempre un po per portarmelo dietro questo qui li posso già tagliare così non mi danno fastidio questo forse avevo portato poco dietro faccio passare ancora un po di solito lo faccio portare un po di più dietro per paura ancora si sfila ok e lo taglio e adesso qui non li brucio perché io sto lavorando con il cotone invece di lavorare con lo spaghetto che ho eseguito alla borsa vedete perché cambi filo tanto devo solo fare il progetto della piastrella l'uncinetto è sempre due quindi la grandezza viene sempre uguale 10 cm perché io volendo posso farla anche col cotone la borsa non è d'obbligo farlo con lo spaghetto lo spaghetto è un filato di sintetico tutto poliestere che si usa per le borse per i tappeti per questi lavori qua viene molto più rigida e costa un po di più rispetto a questo cotone fiocco dico tutto questo perché in base sempre a quello che noi vogliamo realizzare usiamo il materiale però le misure sono da rispettare se noi il progetto viene poi diverso allora cambiamo colore dove ho finito qui sono le due catenelle parto dal centro negli spazi vedete questi sono i quattro angoli 1 2 3 e 4 i quattro angoli della piastrella allora catenella ne faccio due per partire una e due allora sempre in questi quattro angoli faccio 3 catenelle 2 scusate 3 maglie alte separate da 2 catenelle e 3 maglie alte l'angolo è sempre il doppio per creare gli aumenti e tenere la piastrella quadrata 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle questo filo portiamocelo subito dietro e poi lo tagliamo faccio passare sempre nella mezza catenella dietro perché se lo trascina si vede poi dal dritto mi è capitato a volte che si vede il filo continuo allora io lo faccio sempre passare in metà catenella dietro adesso in questo spazio qui sono tre maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle siamo nell'angolo quindi in quest'angolo faccio 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte che che è il nostro angolo 1 2 di nuovo 3 maglie alte 2 e 3 questi fili di taglio così resta sempre ecco qui adesso 2 catenelle sempre la separazione 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte nel nostro terzo angolo e andiamo avanti così fino alla fine del giro 1 2 3 4 angolo 1 2 3 4 angolo 2 catenelle 2 catenelle ultimo gruppo di 3 3 maglie alte 1 2 e 3 una catenelle che sono alla fine 12 vado acause 1 2 vado sopra chiudo a maglia bassissima 2 raggiunta 3 taglio il suo figlio stringo sempre forte e lo faccio passare subito un po facciamo una catenella sino catenella no così facciamo anche prima perfetto e dopo lo tagliamo allora parto sempre nell'angolo cambiando il colore qui allora rosso verde mettiamo il blu parto nello spazio delle 2 catenelle del nostro angolo e faccio 2 catenelle 3 maglie alte compreso le tue catenelle quindi 2 e 2 catenelle sono 32 catenelle di separazione e di nuovo tre maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle di separazione vedete se io questo filo lo faccio passare così si può vedere invece io facendolo passare subito metà catenella dietro lo blocco e lui non mi esce fuori così e poi lo taglio ci lavoro sopra così lo vado a rinforzare rinforzare nascosto 1 2 e 3 2 catenelle e di nuovo qui 3 3 maglie alte un gruppo di 3 maglie alte 2 catenelle questa è l'angolo quindi 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 3 maglie alte e questo è l'angolo quindi Quindi due catenelle di separazione e di nuovo tre maglie alte. Uno, due e tre. Due catenelle di separazione, qui un solo gruppo di tre maglie alte. Due e tre. Due catenelle di separazione, tre maglie alte. Due catenelle di separazione, angolo. Quindi nell'angolo facciamo tre maglie alte, due catenelle di separazione e di nuovo tre maglie alte. E andiamo avanti così fino alla fine del giro. Due catenelle. Fino alla fine del giro. Il giro sta finendo. Una catenella. Uno, due, vado sopra. Chiudo a maglia bassissima, una catenella e taglio il filo. Così abbiamo fatto i tre colori. Adesso l'ultimo lo facciamo di colore bianco. Io man mano mi pulisco sempre il lavoro. Così alla fine non ho da tagliare tutti i fili insieme. Perché mi annoio. Comunque ognuno poi fa come di propria abitudine. Perché sono abitudini queste. Ok. Questo qui lo tagliamo dopo. Così sono più sicuro. Perfetto. Allora, prendiamo il filo bianco. Partiamo sempre sopra dove abbiamo fatto le due catenelle e due maglie alte. Sempre nello stesso angolo. Prendo il filo bianco. Se voglio finire col bianco, se poi volete finire con un altro colore, fate come volete. che ognuno deve essere diverso da un altro. Una catenella e una catenella. Tre maglie alte. Compreso le due catenelle. Due catenelle di separazione. E tre maglie alte. Uno, due e tre. Due catenelle di separazione. Questo filo lo vado a nascondere. Mai tagliarlo subito perché può scappare. Scappare nel senso che quando sono troppo vicino al lavoro, non si sa mai, si può sfilare qui. E' pericoloso. Quindi bisogna sempre portarlo un po' dietro. O lo ha nascondete alla fine con l'ago, facendolo passare sempre dietro sotto. che non si vede. E' in questo modo non si vede. Uno, due e tre. due catenelle. Tre maglie alte. Vedete, qui si vede il bianco. A me non piace. E quindi lo vado a togliere. Quello che vi dice, quando sono dei colori predominanti, chiari, si vede subito. Quindi lo faccio passare in tutte le catenelle dietro. Invece il blu si mimetizza un po' di più. Ecco qua. Quindi in tutte le catenelle. In questo modo. Metà dietro. Tutte. E qui è l'ultima. Ho quei piccoli accorgimenti che... Uno, due e tre. Due catenelle. Tre maglie alte. Uno, due e tre. Uno e due. Se questi li metto sotto e poi li taglio. Uno, l'angolo. Due, tre. Separate da due catenelle. E di nuovo tre maglie alte. Questo è il nostro secondo angolo. Quindi sempre tre maglie alte separate da due catenelle. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Questi fili li taglio. E finiamo il giro. Sto finendo il giro bianco dei gruppi di tre maglie alte separate da due catenelle. L'angolo l'abbiamo già fatto. Una catenella. Una catenella. Vado sulle due catenelle iniziali e chiudo a maglia bassissima. Adesso qui, siccome devo fare gli ultimi giri bianchi, il filo non lo spezzo più. Però io il lavoro lo devo sempre iniziare dal nostro angolo. Quindi come faccio? Vado avanti con una maglia bassissima. Entro nell'arco e faccio una maglia bassissima. Due catenelle. Tre maglie alte compreso le due catenelle. Quindi due maglie alte più due catenelle. Due catenelle di separazione. E tre maglie alte. Adesso qui faccio due maglie alte. Una e due. Sopra le maglie alte. Dentro le due catenelle faccio due maglie alte. Una e due. E vado avanti così. Una e due. Nelle due catenelle. Nello spazio delle due catenelle. Due maglie alte. Una e due. Una e due. Nello spazio. Due maglie alte. Una e due. Una maglia alta. Una maglia alta. Una maglia alta. Nell'angolo dentro faccio tre maglie alte. Uno e due. Una e due. Una e due. Una e due. Una e due. L'angolo sempre separato da due catenelle. nello spazio potete anche dire perché non fai 3 perché se faccio 3 maglie alte e 2 il lavoro si viene troppo troppo largo in ondulato invece facendo così viene subito giusto 2 sopra le tre maglie alte faccio 1 e 2 2 nell'arco 1 e 2 e 2 di nuovo sopra le maglie alte e andiamo avanti così fino alla fine del giro di 2 qui 2 qui 1 e 2 2 dentro 2 sopra 1 2 3 nell'angolo 1 2 e 3 2 catenelle di separazione e 3 nell'angolo 1 2 2 e 3 sopra le due maglie alte 1 e 2 2 nello spazio 1 e 2 1 e 2 e andiamo avanti così e ci vediamo alla fine del giro sto finendo il giro di maglie alte 1 2 2 nello spazio 1 2 e 2 sopra qui dove abbiamo fatto la maglia bassissima 1 e 2 chiudo sulle 2 catenelle maglia bassissima una catenella adesso l'ultimo giro in ogni su ogni maglia alta faccio una maglia bassa nell'angolo faccio 2 maglie basse separata da una catenella e 2 maglie basse su ogni maglia alta sempre maglia bassa in questo modo su tutte le maglie alte sempre maglie basse sempre maglie basse sempre maglie basse sempre bello stretto arriviamo all'angolo faccio vedere come vado a unire con l'uncinetto se unite con l'ago finite tutto il giro di maglia bassa tutto fino arrivare alla fine tutto maglia bassa e poi unite tutte le piastrelle con l'ago cucendo siamo arrivati all'angolo e faccio 1 e 2 una catenella prendo la piastrella vado nell'angolo dove ho fatto nel nostro angolo dove ho fatto la separazione delle catenelle 1 2 quindi nella catenella tiro la catenella e faccio una catenella 2 maglie basse nell'angolo una catenella 1 2 maglie basse 3 ma una catenella adesso 1 2 3 una catenella 1 2 e 3 tiro una catenella 1 2 e 3 una catenella 1 2 3 una catenella 1 2 3 maglie basse 1 2 3 una catenella 1 2 3 una catenella 1 2 3 in questo modo sto unendo 1 2 3 una catenella 1 2 3 e vado avanti così in questo modo unisco le piastrelle se non mi piace questo spazio che si viene a creare posso fare anche 2 catenelle unisco cioè 2 maglie basse unisco e viene ancora più più chiuso in questo modo io qui ho fatto 3 e unisco 3 e unisco 3 maglie basse unisco 3 maglie basse unisco diversamente 2 maglie basse unisco 2 maglie basse unisco e vengono questi buchetti più piccoli con l'ago invece viene tutto tutto più fitto 1 2 3 ogni volta è sempre diverso Gioんですcare unisco ilciano uno 1 2 3 1 2... 1 2 tra la catenella e 4 3 indicatori dopo ho trovato il gioco 5 2 1 2 angolo ci siamo adesso qui 12 nell'angolo una catenella vado 12 nello spazio della catenella e faccio una catenella 22 2 catenelle sono poi mi tira 2 catenelle 2 maglie basse e vado avanti tutta maglia bassa perché adesso non ho da legare le piastrelle sopra dico man mano che faccio le piastrelle le vado a unire invece che unire con con l'ago in questo modo ha detto no non tira adesso inoltre che finisco il giro tanto è tutto uguale fino a arrivare tutto a maglia bassa tanto il cotone si apre allora ultima cosa praticamente io qui sto usando il cotone fiocco lavoro con l'uncinetto numero 2 se voi avete un altro cotone non so il cable per dire che ai numeri o il pellicano tanti altri cotone vanno a numeri perché il fiocco non ha non c'è scritto il numero vicino ma questo è l'angolo faccio 2 c'è una cosa una catenella nell'angolo 1 e 2 e andiamo avanti e per lavorare con l'uncinetto numero 2 se uso diciamo il pellicano userò il numero 3 perché se uso un altro numero non solo 8 e 5 sono più sottili e quindi la piastrella non mi viene poi grande dieci centimetri per quello dico è importante usare il cotone in base all'uncinetto in base alla misura che vogliamo fate di larghezza se usiamo un filo un po più piccolo vediamo che la pasta la piestrella viene più più piccola o facciamo un giro in più oppure facciamo un perimetrale in più per avere la misura di questa borsa allora qui è la fine sopra la catenella chiudo maglia bassissima una catenella e taglio il figlio adesso qui ho lavorato un po più largo per fare il tutorial di la piastrella mi doveva venire dieci centimetri e dieci centimetri è venuto vedete finita dieci centimetri perfetto quindi vuol dire che ho lavorato con una tensione abbastanza stretta allora questo è il procedimento di questa piastrella spero di aver detto tutto per realizzare il progetto di questa borsa come è davanti la variante dei colori le sfumature che qui abbiamo messo in questo modo anche questi sono i particolari così è dall'altro lato uguale magari ho spostato solo le no non ho spostato niente come l'ho fatta di là l'ho fatta di quale stesse praticamente il progetto nel il progetto dei colori me l'ha dati la cliente e io gli ho eseguito la piastrella e l'ho realizzata le poi se le cucita ha messo i manici come ha voluto lei perché è una che collabora con me una cliente che facciamo i lavori insieme e quindi le ogni tanto mi dice fammi questo vediamo come fare e io lo vengo a condividere con voi per far vedere le foto che metto poi su facebook oppure su instagram mi chiedete la piastrella mi chiedete la variante dei colori a volte mi chiedete anche il materiale lo spaghetto che è importante perché vedete come sottile e non cioè io penso che ce l'hanno tutte le mercerie ma se non lo trovate mi scrivete nei messaggi io ve lo posso anche spedire a peso perché è ovvio che non vi faccio acquistare 13 in questo caso sono 18 colori no le varianti allora comprare 18 colori diventa una cifra veramente alta allora o si divide con le amiche come faccio io con le mie cliente ce li dividiamo pesiamo quanto materiale ci vuole e ci veniamo incontro per fare questa borsa qui se ne andato 550 grammi di filato il bianco se ne andato di più e quindi abbiamo dato il bianco ce lo siamo divisi in due sono le rocche sono di 350 grammi e l'abbiamo diviso in due e gli altri ne abbiamo fatti di 30 40 grammi ogni colore sono quei particolari che l'uncinetto è bello quando si collabora insieme quindi ognuno si divide il materiale tutte cose molto di compagnia un lavoro di compagnia allora spero di aver detto tutto devi avervi dato come sempre dei consigli se vi è piaciuto cliccate mi piace scrivetevi sempre numerose perché a me serve per far crescere la pagina vi ringrazio tanto ciao ciao a presto